L'Europa del tempo di Berlinguer, intendo proprio l'Europa di Bruxelles, era molto diversa da quella di oggi. Io metterò l'accento su questa diversità proprio perché credo che a maggior ragione per questo le idee di Berlinguer si mostreranno attuali oggi. Come si presentava l'Europa di Bruxelles all'inizio degli anni 70? Nel vertice dell'AIA, nel dicembre del 1969, i suoi allora nove Paesi membri si erano dati un programma molto ambizioso. Era stata inaugurata e istituzionalizzata la cooperazione politica ed era stato anche deciso allora di procedere verso una unione monetaria. Sì, ma quella idea di unione monetaria, che allora poi non fu realizzata, era molto diversa da quella che è stata realizzata molti anni più tardi e nella quale oggi ci troviamo. Quella idea di unione monetaria era concepita come risposta a precisi, gravi problemi di allora, una risposta diversa da quella che allora effettivamente fu data a livello globale e che in realtà era destinata a lasciargli aperti quei problemi ed anzi a raggravarli. Parlo naturalmente della crisi ed è successivo crollo nel sistema di Bretton Woods, il quale, come sappiamo, si fondava su tre elementi. Cambi fissi tra le monete, ruolo del dollaro come moneta internazionale di riserva e soprattutto cooperazione tra governi ai quali competeva un ruolo di controllo, di regolazione di movimenti internazionali di capitale adeguatamente fluidi a fini di sviluppo equilibrato e il benessere globale, ma guidati entro quella che allora era una sapiente rete di canali, di argini e di chiuse di pressione. Uno dei principali protagonisti all'AIA era stato Willy Brandt, appena eletto cancelliere allora, che cominciava a sviluppare la sua politica di dialogo e di pace mantenendo contemporaneamente il quadro della costruzione europea e lo stesso quadro della solidarietà atlantica. Infatti, la socialdemocrazia tedesca, dopo essere stata inizialmente neutralista, aveva accettato la Nato pochi anni prima, poi all'inizio degli anni Sessanta, proprio per favorire la stabilità dell'equilibrio mondiale, quindi la pace, legando infatti quella scelta alla prospettiva di superare infine comunque un giorno la stessa divisione dell'Europa e del mondo in blocchi. Il senso della posizione che Berlinguer prenderà qualche anno dopo, circa l'Alleanza Atlantica, non sarà poi forse sostanzialmente lo stesso, esattamente questo, e già, ma qualche anno dopo, appunto, in una situazione mondiale cambiata, un certo atlantismo reale reagirà a una sollecitazione di tale genere con immediata, decisa e attiva ostilità, e non in nome di qualche principio non adeguatamente riconosciuto o in qualche modo violato, no, in funzione di precisi e grandi interessi strategici di quella fase. Reagirà in modo anche molto più ostile e soprattutto molto più concreto di quanto un certo socialismo reale, a sua volta certo, abbia reagito negativamente. In quella prospettiva, comunque, una comunità europea sempre più integrata era intanto sollecitata ad esercitare il suo peso per la pace, per lo sviluppo pieno e globale della democrazia, tanto a livello geopolitico quanto a livello geoeconomico. E mentre sembrava avviarsi a farlo, si avviava anche, ovviamente, a scontrarsi con l'opposta volontà del governo degli Stati Uniti, con la sua volontà, cioè, di agire unilateralmente per affermare ciò che essa stabiliva l'amministrazione Nixon come interesse nazionale, coincidente per essa con un primato da mantenere ad ogni costo, ad ogni costo prevalentemente altrui. E del resto, l'amministrazione Nixon concepiva la stessa distensione come una semplice tregua nel conflitto globale, necessaria in un momento sfavorevole, non come una strada verso una piena soluzione di pace. E lo dimostrò evitando di impegnarsi per prevenire allora una nuova guerra in Medio Oriente, essendo su questo innanzitutto lieta rivedere l'Egitto liberarsi dal freno, tra l'altro anche costituito dall'Alleanza Sovietica, proprio per poterla cominciare, quella guerra, per spostare quindi i rapporti di forza regionali in funzione dei propri interessi, guardando poi agli Stati Uniti come principale interlocutore. E immediatamente dopo la guerra arabo-israeliana dell'ottobre del 1973, appunto, i nove paesi della Comunità Europea si impegnarono decisamente, dichiarazione di Bruxelles dicembre 1973, a favore del percorso di pace multilaterale e globale, delineato dalle Nazioni Unite a garanzia delle vitali esigenze di tutte le parti. E perciò si scontrarono con la volontà americana di porre ostacoli allo svolgimento di quel percorso a favore della propria strategia unilateralista. Questo braccio di ferro durò poche settimane. Tra il novembre del 1973 e il febbraio del 1974, settimane decisive, alla fine fu l'Europa dei nove che si piegò di schianto e in particolare fu Brandt che si piegò. Quando la conferenza sull'energia voluta dagli Stati Uniti si tenne a Washington per confrontare i punti di vista tra gli alleati occidentali, Brandt era fortemente debolito da contrasti interni al suo partito e alla sua coalizione di governo e lasciò che il ministro delle finanze, Helmut Schmidt, rappresentasse in quella sede il governo di Bonn, anche un po' sopra la testa dello stesso ministro degli esteri, in virtù della propria forte personalità, delle proprie connessioni. E Schmidt che cosa fece? Non fece altro che trasmettere al governo di cui faceva parte, senza commenti e senza distanziarsi, la durissima minaccia formulata dall'amministrazione Nixon in modo coperto, ma evidente a chi poteva capire, e tra quelli che potevano capire c'era certamente l'ex ministro della difesa Helmut Schmidt, e che cosa consisteva questa minaccia? Prevedere, è una minaccia con Europa che volesse insistere nelle sue ambizioni di autonomia, prevedere di rendere immediatamente nucleare una possibile ulteriore prova di forza con l'Unione Sovietica circa in Medio Oriente, usando le basi in territorio europeo, combatterla insomma fino all'ultimo europeo e fino all'ultima città europea. Seguirono di pochi mesi le dimissioni di Brandt dalla guida del governo di Bonn e la sua sostituzione da parte di Schmidt in un avvicinamento circa il quale il segretario militano Kissinger, parlando alla stampa pubblico, non esitò nemmeno a manifestare pubblicamente appunto per proprio compiacimento, con parole anche troppo simpatiche di fronte di Brandt, e che ebbe circostanze spionistiche non ancora del tutto chiarite del resto, chiaro come occasione, sappiamo, ma appunto come pure semplice occasione. E da quel momento in poi toccò proprio a Berlinguer proseguire, in dialogo con l'indirizzo impresso da Aldo Moro alla politica estera dell'Italia, il disegno di autonomia e di costruttivo contributo alla pace globale, che il governo Brandt e l'Europa comunitaria avevano cominciato allora a concepire e si era così bruscamente interrotto. La strategia del compromesso storico infatti aveva una fondamentale dimensione di politica estera e la sviluppava in un modo che tra l'altro già appariva efficace. Tra il 1974 e il 1975 il Parlamento italiano prendeva già posizioni largamente condivise all'interno dell'arco costituzionale, che affermavano principi fondamentali come il multilateralismo, l'indivisibilità globale della politica di distensione e perciò l'estensione all'area mediterranea e il Medio Oriente sta nel Mediterraneo, dei principi e dei metodi della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Queste posizioni espresse dal Parlamento corrispondevano anche a iniziative e proposte precise del governo Moro nelle sedi internazionali. In particolare è l'ultima fase della conferenza di Helsinki. Come in qualche modo direi la grande coalizione tedesca, ma nel caso italiano di più perché ovviamente Moro non era Kisinger, anche la grande coalizione italiana, cui Berlinguer e Moro pensavano, appariva concepita cioè come uno strumento anche per rifondare il consenso nazionale di base circa gli interessi del Paese in campo internazionale e anche perciò stabilire il terreno per successive normali alleanze di governo. Ai fini della costruzione di un nuovo consenso l'accento cadeva sull'interesse per la stabilità come garanzia di progresso e di cambiamento pacifico e su un'idea di sicurezza come necessariamente indivisibile, cioè inseparabile da quell'altrui ciò che si intende, cioè come il principio e l'ideale, ed ecco le norme attualità, poi ci arriverò, della sicurezza collettiva. Berlinguer andava però anche oltre Brandt, o almeno rendeva esplicito ciò che nella visione di Brandt era contenuto, ma restava sottaciuto o incompiuto. Concludendo il quattordicesimo congresso del PC, nel marzo del 1974, Berlinguer prese una forte posizione sul fondamentale problema, tutto sommato ancora aperto, anche se è già ormai quasi deciso, del vuoto di sistema causato dal crollo del regolo di Bretton Woods. formulò infatti, cito letteralmente, l'esigenza di un sistema monetario valido per le relazioni fra tutti gli stati, indicando quindi la via di una reale unificazione dell'economia mondiale, in modo compatibile con le esigenze di giustizia e di progresso allora mature. Un'altra strada, completamente quell'altra. Questa enunciazione provocava e sfidava tanto da una parte la strategia unilaterale di restaurazione del dollar standard attraverso la deregolamentazione selvaggia dei mercati finanziari e quindi anche perciò il riciclaggio della rendita energetica, per il momento di quella, poi anche di altre cose peggiori, in funzione del finanziamento in deficit della potenza globale americana, quanto provocava e sfidava dall'altra parte la sempre più decisa riaffermazione dell'isolazionismo sistemico da parte dell'Unione Sovietica, che diventava tra l'altro ora funzionale a una politica di potenza globale ormai simmetricamente unilateralista, anche per effetto della pesante umiliazione subita dall'approccio diverso che Mosca aveva seguito circa il Medio Oriente immediatamente prima. Le questioni che l'europeismo di Berlinguer vedeva e affermava come aperte e urgenti, insomma, secondo me erano innanzitutto due e sono aperte e urgenti anche oggi dopo tanti mutamenti e perciò in termini nuovi. Una è quella della sicurezza collettiva, in quanto esigenze imprescindibili per un avvenire di pace e del ruolo dell'Unione Europea oggi come soggetto in tale prospettiva e qui secondo me c'è una domanda spinosa, ma per il fatto che sia spinosa non vuol dire che non ci sia, dobbiamo porcela, vale a dire la formula così, stare oggi entro la Nato senza almeno ridiscutere profondamente gli attuali e precisi impegni più o meno noti che ne derivano e poi veramente conforme al modo in cui non soltanto Berlinguer ma lo stesso Brandt vedevano allora la cosa. Può altrettanto facilmente ciò stare oggi senza discutere entro la Nato, senza discutere alcune tendenze strategiche di lungo periodo, medio periodo che oggi sono in atto, può essere altrettanto facilmente essere reso utile la stabilità della pace come si poteva e si doveva pensare allora. La domanda vi sembra almeno legittima e del resto si collega a un'altra questione di fondo che secondo me non può essere trascurata e vorrei rapidamente menzionare anche se talmente grossa da essere un po' difficile da essere formulata in modo rapido. Quale idea di Europa, l'Unione Europea, rappresenti concretamente materialmente nello spazio, definire materialmente, idealmente e materialmente l'idea d'Europa è un rompicapo da secoli, farlo oggi praticamente in termini di confini geopolitici non è meno complicato di prima, forse lo è di più, è una questione che somiglia molto, vorrei dire avviandomi la conclusione, di quella che si doveva affrontare nel XIX secolo quanto alla non meno incerta e non meno complicata idea di Germania. In entrambi i casi si tratta di una complessità e di una ricchezza talmente grandi da sfuggire ad ogni possibile soluzione geopolitica che sia capace di comprenderla intera senza snaturarsi e senza rischiare di diventare venenosa. Ricorre riconoscere in casi del genere, osservare dei limiti sapendo che l'idea va oltre. Un conservatore intelligente come Bismarck in qualche modo lo capì per il problema suo e comunque si due una strada compatibile con questo. Parlo chiaramente di Ucraina, parlo naturalmente di Russia. L'altra fondamentale questione su cui finisco veramente ma importante è la necessità di costruire una forma di economia e di mercato che anche a livello mondiale, come era e resta imprescindibile in un mondo interdipendente, faccia seguito alla crisi di quella esistente, crisi di improseguibilità della forma esistente, combinandosi con forme ancora più avanzate di democrazia all'interno di ciascun paese come nei rapporti tra i popoli e la civiltà anziché con pesanti limitazioni della democrazia come invece è accaduto da allora e accade oggi. E appunto, un'efficace combinazione tra nuove forme di mercato e una più compiuta democrazia nel quadro di relazioni di amicizia e di pace tra i popoli era e resta la nuova e più avanzata idea di socialismo su cui Berlinguer lavorava, per cui pensava, da comunista e da rivoluzionario ed è quella su cui noi siamo chiamati a lavorare, pensare, lottare oggi. Grazie.